Hey, nothing you can say, nothing's gonna drain what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take what's mine Pic diretto per simmetro, ok, vedremo Dov'è sono? Perché non gli ha dato la debolezza? Oh yeah, smettere di rimbalzare come dei coglioni Ragà, ragà, c'è una Zaria E che cazzo Eh, mi stava inseguendo la fara perché aveva bisogno di cure Il soldato sta tentando di ammazzarla in tutti i modi, effettivamente Però io non posso curarvi tutti, eh, da solo Uh, quello è morto, madre Ma dove avrò messo la roba? Ma io sono l'unico healer C'è qualcuno lì Eh, sì, sono l'unico healer Adesso che ci penso C'è una strafara che ha fatto Corri 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 Raga, copritemi Mi cazzarola Ehi, mi spiace Cioè io capisco che con la simmetria può essere master Ma è un pick difficile Per quanto ti senti brava Cattroia, questi mi attusciano Questi mi pushano Ehi, mi spiace Ehi, mi spiace Ehi, mi spiace Ehi, mi spiace Prende un altro healer Cazzarola O almeno prova a difendermi Quel cazzo di Zarya Eh Tutti che si pensano Fortissimi Ehi, mi spiace Figa, non vi posso aiutare così tanto però Figa Qualcuno che ringrazi me però ogni tanto Porca puttana Ho salvato quel McCree Da una situazione incredibile Anche quella simmetria Gli ho fatto fuori un po' tutti Vabbè che c'era anche Zarya Non posso andare da solo Adesso ci penso Zarya ti prego Zarya ti prego Sirti a sinistra Sirti a sinistra Sirti a sinistra Allora io mi vado a metterla sopra Perché c'è McCree E Rodog Che possono Stoppare gli altri E sicuramente Più Sicuro per me E sta andando Verso il coso Mi avete lasciato di nuovo da sole Buono Però abbiamo usato bene le Ultra E' difficile fare il Liner unico Eh sto arrivando Eh ci sono altre che servono cure Brutto accusa quel gancio Adesso mi attacca anche il cazzo di Winston E mi servono cure anche a me raga Eh non posso far tutto E' un'altra e quattro E' un'altra e quattro Eh dai Oh raga Mi stanno attaccando in quattro In quattro Hanno quattro tank che mi attaccano Hanno quattro tank Quattro tank E non è che mirate la Mercy Nooo Mercy Mi stanno attaccando in quattro tank È un'altra e quattro tank E non è che mi attacca Ma c'è una spinta Eh È un'altra Ma c'è un'altra Non è che mi attacca È un'altra Che sui Soli Smoliti E L'altra Le Ma c'è un'altra E La Mi E se non abbiamo neanche un soldato che ci cura, non posso curarvi tutti, non siete neanche coloro che si curano da soli, no? Cioè, quello è il problema. Non è ammazzato. Buono, quel loro dog sta andando in avanti, qua McCree sta combattendo. Orca puttana cosa m'ha fatto! Bravo McCree. Devo anche vedere dove vanno, se vanno verso le cure. Non è un'altra persona. Apa? Beh, non è un problema. Se vinto a un'altra persona. Mi chiede a un lavoro. Mo' è una persona che si riferisce. Non è un problema che non è indiesa. Non è un problema che si riferisce. Non è un problema che si riferisce. oh non riesco a prenderlo con l'usso eh un attim data che mi faccio un po' di ultra su quello ho appena visto ehi la vedete di difendermi grazie caputana è entrato in un secondo segnata subito c'è quelli l'anno quattro tank che ormai non si usa più anche per un buon motivo non ci sono tanti lear che possono mantenere questo passo sto solo pensando a uccidere pessima cosa da fare consegnata no bello no mi spiace da quello non ti posso salvar mamma mi spiace da quello che si sta caldando dicevo Mamma mia me Cree Niente Cosa fa quella lì? Ma per favore No io qua scappo Vabbè scappo scappo Caputana Eh no non vi posso salvare da questo Non vi posso salvare da questo Mamma mia Mamma mia che super zegnata oggi Votatemi vi prego No perché due Ho visto una zignata Me l'ho quasi fomentato Dai vi prego Votatemi No No Porca non posso curarmi Ho sbagliato il salto Sono un coglione Ok ok Io c'ho la mia ultra Ma non serve un cazzo qua Piora praticamente Forse non mi serve neanche lo La mia ultra si sta caricando Addirittura? Vabbè io ti seguo Trascendete ma non Non Mi spiace zignata Ma aveva tolto Anna è stata brava Ma aveva impedito Di curarmi Porca puttana Hanno pushato fin troppo Oh 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 No niente Chi mi conviene prendere Chi mi conviene prendere Ripper Ok La via ultra si sta caricando La via ultra è pronta Ciao Dai raga ve ne ho portate giù uno Devo distruggergli il coso Quando siete pronti Dai che ve li ho portati via Dai Porca puttana Ci mettete tre anni Sì ma Vabbè Anna Stai scherzando? Ma Sei scema? Cosa vuol fare? No widow maker Ti fai poter Gratulasi Mi gui Oh Buono A me si è messo Widowmaker a caso. Devo pensare, non so cosa fa. Dai, dove siete tutti? Non ci credo. E gli altri? E se fossero arrivati tutti insieme? Sono morti tutti? No, no, cazzo. Vai, che cazzo si mette Widowmaker alla fine? Ho già sbattuto la roba contro lui. Ho già sbattuto la roba contro lui. Reinhard? Forse esageri Buono In qualche modo abbiamo resistito Ora il Televarco è una posizione In merda ma ho dovuto piazzarlo Per necessità diciamo Ah niente C'è più bisogno Da che ammazzo Reinhard Dov'è che ammazzo Reinhard Cazzo continuo a potenziare la Zarya Non devo far così le bolle Questa ci provoca La morte non può fermare Buono Come abbiamo resistito Grazie Oh non vogliono rovinarci la ferra tracer non pensare di venire qui facilmente mi sono scomperato bisogna non 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 grazie figa ha potenziato me l'ana ha potenziato me bellissimo probabilmente non si sapeva dove trovare qualcun altro tac a me vuole migliore con simetra e winston winston probabilmente ha fatto tanto perchè colpendo un po' tutti addirittura avrà buttato giù qualcuno all'inizio qui però complimenti complimenti sai che non so chi votare votiamo Reinhardt dai senza di lui non avremmo potuto fare un cazzo all'inizio grazie a tutti grazie a tutti